Al via alla nascita dei servizi per l'infanzia, previsti dal progetto del piano di zona ambito S9 denominato Tutti giù per terra. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato inaugurato lunedì 13 giugno presso i locali della scuola materna di Casterruggero, frazione di Torre Orsaia. Si tratta di un micronido comunale, resterà attivo come da programma per tutto il periodo estivo che va da giugno ad agosto 2016 e sarà rivolto ai bambini di età compresa dai 6 ai 36 mesi. Soddisfatto per l'attivazione del servizio, il sindaco Pietro Vicino ha testimonianza, ha riferito, dell'attenzione che l'amministrazione ripone verso le politiche sociali a favore dei minori e a conferma dell'impegno concreto verso i genitori impegnati in attività lavorative. Al taglio del nastro erano presenti anche il vice sindaco Antonio Caiafa, l'assessore Filomena Letizia e Maria Cristina Cavaliere, vice presidente del consorzio La Rada di Salerno, a cui il piano di zona S9 ha affidato la gestione del progetto. Per l'occasione è stato sottolineato il valore educativo del servizio, stimolante per esperienze di aggregazione. I responsabili del consorzio hanno inoltre garantito uno scrupoloso percorso socio-pedagogico con l'ausilio e l'assistenza di valide educatrici. Altre strutture ospitanti i bambini di tenera età sono state aperte nel comune di Rocca Gloriosa, presso i locali del centro polifunzionale ubicati nella frazione Acquavena e a San Giovanni Appiro, nell'edificio dell'ex scuola elementare. Due ludoteche che offriranno ai piccoli occasioni di gioco e di socializzazione grazie alla presenza di personale adulto con funzioni di animazione e accompagnamento. Il progetto Tutti giù per terra coinvolge anche i comuni di Sapri, Rofrano e Centola per l'istituzione di Micronidi e Ispani, Tortorella, Santa Marina e Camerota per le ludoteche. Grazie a tutti.